Il mio migliore amico è un giornalista di TG. E quindi, cioè, voglio dire, bastava una telefonata, oh Fiore, ho saputo che vai qui, ma sai che noi, insomma, si sarebbe potuto fare qualche cosa. Invece, leggere dalla sera alla mattina quella roba lì, scritta, veramente, quella parola molto brutta, usata, sfregio, credo che è stata una, diciamo, voglio dire poco elegante, tutto qua, ma per il resto io non ho niente, né con il TG1, anzi, scherziamo, ragazzi, il TG1 è, TG1 è TG1, però poi, come è arrivata Rai 2 è stato un attimo, cioè non è che, sai, ci abbiamo pensato, sai, è ora che, non c'è stato, è ora che facciamo, è proprio stato un passaggio semplice, in dolore, cioè come dire, ah vabbè, allora facciamo, ma se non si può fare lì, dove si può fare, su Rai 2, ho detto, fantastico, ho detto subito, cosa ho detto? Il Presidente. Il Presidente. Il Presidente Rai 2. Chi? Il Presidente Rai 2. Ah sì, Coletta, scusate, Mattarella, è stato Mattarella, ho detto, beh, Sì, poi Rai 2, voglio dire, quando ho detto vai su Rai 2, perché chi va su Rai 2 muore, cioè non va, io per adesso, io spero che non accada a noi, però a chiunque tocca Rai 2 ultimamente, ultimamente, però, voglio dire, adesso, non è che, noi andiamo in una fascia, devo dire che meglio di così non poteva andare, è all'1%, quindi devo dire, fare il 2 non dovrebbe essere un problema, se faccio il 2 è il 100%, se faccio il 3, se riuscissi a fare il 4 divento a di della Rai e ciao forno.